Buongiorno, buongiorno a tutti e soprattutto buona festa di ogni santi. Tanti auguri perché se oggi festeggiamo tutti i santi festeggiamo anche noi perché la Chiesa del Cielo si unisce alla Chiesa pellegrinante e sofferente della Terra. Allora ringraziamo Gesù per averci dato tanti amici, tanti esempi, tante figure di persone che nella loro quotidianità, nel loro ministero si sono sforzati di fare che cosa? Di amare Dio e il prossimo e di vivere il Vangelo. Ecco questo dobbiamo fare noi ogni giorno, amare Dio e i fratelli, vivere il Vangelo e soprattutto fare bello, il nostro cuore, la nostra anima e i nostri pensieri. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti, buona festa e tanti auguri. Grazie a tutti.